Sindaco, questa è una giornata un po' particolare, anche un po' triste per le vicende di Genova che però toccano anche purtroppo Torre del Greco, Napoli, ci sono dei giovani napoletani che hanno perso la vita. Sì, abbiamo espresso la nostra solidarietà totale per le famiglie dei quattro ragazzi di Torre del Greco, tra l'altro uno che conoscevo benissimo, che avevo visto qualche giorno fa, un vostro collega, un vostro operatore, un ragazzo davvero eccezionale, una tragedia immane quello che è accaduto a Genova, che dovrebbe interrocare tutti, ma questo lo faremo nei prossimi giorni. Oggi è il momento della solidarietà, dell'unione del Paese, dell'abbraccio nei confronti dei feriti e dei familiari delle vittime di una tragedia che è inaccettabile, non può essere considerata assolutamente una fatalità, è per questo che siamo anche tutti sconvolti.